La presidenza stessa in mezzo di sorella che continuava a disegnare il scopo su quando i valori del capitale al momento della votazione si sono ricipitati dall'assistente dell'assistenza occupando e sospravacando tutti i dati del governo nonostante la presenza degli assistenti parlamentari. Risulta che lei abbia preso parte a parte di soldi al caro tentato di raggiungere manche del governo a sciare il pedito dagli assistenti parlamentari. Va bene, molte grazie. Io le dico che in quei momenti ho vissuto una situazione veramente drammatica, avevo un gruppo in gola che in realtà mi è rimasto ancora e quindi quello che ho fatto lo rivendico, lo rifarei mille, cento, mila, milioni di volte.